Se sapessi costruire un dimensionatore, dove mi nasconderei? Venite, venite! Le armi più devastanti sono un tiro di schiappo! Non si accettano resi, tesoro! Ehi, domanda a bruciapelo! Non è che per caso sapresti come si costruisce un dimensionatore, vero? Ratchet! Ratchet! Gary! La tua fama ti precede, bello! Devi rivolgerti agli archivi interdimensionali, ti aiuterà la mia apprendista! Ma... Siete sotto attacco? Come lo sai? Vado a controllare! Direi di essere ancora in grado di fermare un'invasione! Immagino che i due Nefarius stiano cercando un Lombax! Beh... Sì... Questo mi aspettavo... Buona fortuna, Ratchet! Quel palazzo oltre la città! Devono essere gli archivi! Un cecchino bot... Volante? È una novità? Non è stata certo colpa mia se... Lombax è scappato! Un intruso! Finalmente! Grazie a tutti. 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 Morte, distruzione, domenica. Un intruso! E piacevole... Un imperatore ti ordina di implorar perdono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ci aiutemi... No! Non ci aiutemi... Faccio fuoco! Un'altra città salvata! Ora pensiamo agli archivi. L'apprendista di Gary si trova negli archivi. Un'altra città... 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 E' così imbarazzante Va tutto bene Hai preso una gran bella botta Tu chi sei? Scusa, sai, hai un'aria familiare Sono Recha Sto cercando, credo che sia, l'apprendista di gay Perché devo costruire un dimensionatore Oh mamma Dubito di poterti aiutare ora che gli archivi stanno scappando via Ora come torno lassù? Ah, sei tu l'apprendista Forse potremmo... Forse potremmo aiutarci a vicenda Io... Non sono granché come spalla Facciamo così Se qualcosa dovesse andare storto e non lo farà Allora ci separeremo Senza troppe domande Soci? D'accordo Soci Per ora Per poter raggiungere gli archivi Dobbiamo salvare i monaci dalle truppe di Nefarius Ecco Questi overscarponi sono l'ideale per spostarci sulla mesa Mi cazzano a pennello Cioè A piedello Devo accelerare per saltare da quel ponte Per arrivare agli archivi servirà l'aiuto dei monaci Gli accoliti di Gary Dobbiamo trovarli nei templi Prima fermata Templi Ehi Non mi hai ancora detto il tuo nome Oh Io sono KT7461 Beh, è un piacere conoscervi Esistono tre templi in questa zona Il Tempio della Montagna Il Tempio della Giungla E il Tempio della Spraterra Una regione... Beh, alquanto ostile È un po' di più Grazie a tutti. Cosa c'è? Stai bene? Sì, scusa. Non mi trovavo coinvolta in uno scontro da molto tempo. Non mi trovavo coinvolta in uno scontro. Non mi trovavo coinvolta in uno scontro. Aspetta. Quello è? Un santuario dei Lombax? E questa? Che cavolo è? Voglio vedere... Potrei chiedere in giro. Crediamo che i Lombax abbiano usato e forse costruito i templi qui intorno. Perché lo avrebbero fatto, secondo te? Non ne ho idea. Forse per tenere segreto il potere del dimensione top. Capisco. Grazie allo stesso. Solo l'esperatore. Sì, devi utilizzare questo pianeta. 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 Sì, devo utilizzare questo pianeta. Sì, devi utilizzare questo pianeta. Sì, devi utilizzare questo pianeta. Restano solamente due templi I monaci stanno cercando di resistere Ma non conoscono la crudeltà dell'imperatore Andrà tutto bene Ci siamo noi Dimmi, KT7461 Ce l'hai un soprannome? Per i monaci, sorella Quello è più un titolo Proviamolo noi Come dici di KT? Ce l'ho Raggio di sole No? Perché sei gialla? Non mi convince KT? Possiamo lavorarci E come sei diventata? Apprendista di Gary? È una lunga storia Ma devo ringraziarlo per aver creduto in me Sembri diversa dagli altri monaci qui intorno Lo so Sono più piccola E non abbatterti Anch'io sono sempre il più basso Se escludiamo Claire Il mio migliore amico Il mio migliore amico E' quella è molto importante È una lunga totale Ma è una lunga Ma è una lunga Ma è una lunga Ma è una lunga Questa in maniera Per il giro di più E' una lunga Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. grazie a tutti. 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 Il percorso sta per trollare. Oh no! Occhio! Ok, possiamo andare. Buona idea! la faccola! Devlamare. la faccio? Ehm! Occhio! Ce la faccio! Agah! Oh no! Queste prove sembrano vagamente... rischiose! Sono un sistema di difesa del Tempio. I suoi architetti erano molto protettivi. Direi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Oh no! Un virus Z. Non posso accedere al terminale senza il rischio di infettarmi? Può occuparsene la mia amica Glitch. Fammi vedere. Poveri monaci! Ok. Ora devo cancellare i bozzoli, così da eliminare l'infezione e liberare quegli sventurati del Ratchet. E non è affatto... Ora può anche sparare... E va bene, basta mettersi a ritare. Aspetta! Quel tozzo lo ha sabotato il computer per creare uno scudo. Ho fatto! Non funzionato! Ha diventato l'energia da quello stupido, stupido virus! Niente più scudi! Minus! Siate spazzati! Si moltiplicano troppo in fretta! Devo stare più inoltre di loro! Non funzionato! 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 Ah! Qui sono! L'ho scoperto! Non posso ferlarmi! Vieni, non tenete duro, piccoli monaci Oh, grandi monaci Scusate, ma che sto facendo? Non possono sentire Scusate, ma che sto facendo? Allora non è stata fortuna l'ultima volta Sono proprio brava Ci avete salvati, sorelle Recep Grazie Resta solamente un tempio Un altro tempio Ne manca solo uno Li troveremo Te lo prometto Sembra che questo cavo... Porti fino alla spraterra Te lo ripeto Dovresti cercare di trovarmi un soprannome O di diventare mio amico Mi sembri troppo severa con te stessa Non puoi saperlo Non mi conosci Gary si fida di te Gary si fida di te E a Imon ci piace Potresti rivalutare questa cosa della nascita Io... Ci penserò Ben fatto fratello Lombax Ben fatto fratello Lombax Adesso vado a prendere la protezione per il torace Intanto tu portami qui quelle Spera Posso darti un consiglio in base alla mia esperienza con i monaci? Certo Spara Anche se Clank trovasse un altro amico Un amico del cuore Il vostro rapporto non cambierebbe L'amicizia non è una torta da tagliare a pette Al contrario Si moltiplica Capisco perché Gary ti ha scelta come pette Sei stato Grazie Grazie A proposito di amici del cuore Ne hai uno? Io No Mai avuto Nelmeno Gary? Lui è più fratello maggiore che un amico Facciamo così Io divento tuo amico E con calma arriviamo a Io Non credo sia una buona idea Il tempio della giungla Oh L'imperatore non ha rispetto per niente e nessuno Diamogli una lezione Intrusi Devono essere qui per i reggiorgieri Permettamoli per l'imperatore Non deve liberare E lotta E' un'onore Per me è un grande onore Per scatenare la gloriosa musica degli esperatori Rimasso di te Forti Ma imbana Li Well c'è Grazie a tutti. 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 Ok, diamo una scossa allo spiro motore. Grazie a tutti. 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 È incredibile. Kid! Sono io! Te l'ho detto. Non sono granché come spalla. Certo. È stata dura, ma... mi sono davvero divertito. Tu non riesci a capire. Non sei al sicuro se stai con me. Sono nata per essere un'arma. Per tenere la galassia dell'Imperatore al sicuro. Una notte di pattuglia. Provai un ribelle nella zona imperiale. E tentai di... fermarlo. Io... esisto solo per uccidere. È così. sono qui per tenere al sicuro gli altri da me. Per questo non posso venire con te. Beh... questa missione è andata bene, no? Sì. Penso che sia così. E se non ricordo male, l'accordo era che se la missione non fosse stata un fiasco... Vuoi ancora fare squadra con me? Sei molto strano, Ratchet. Non sei la prima a dirmelo. Soci? Sì. Forse. Solo questa volta. Sì. Ci proverò. Grazie, Ratchet. Per averci aiutati. Figurate. E ora andiamo alla stazione di Chedano. Sei qui per comprare? Gatti! Io devo... Partire per un'avventura? Lo so, che emozione! Auguro il meglio a entrambi e buona fortuna alla stazione di Chedano. Come sapeva? Me lo chiedo ogni volta. Il quarzo fasico è tutto vostro, Rivet e Clank. Chissà come se la cava a Rivet.